Voglio ringraziare ancora Antonio Rossi, la regione, la federazione, la struttura romana, tutti quelli che ci stanno dando la mano per andare avanti con questo progetto. La festa di Natale, la festa qua, è molto importante per noi perché porterà visibilità alla società, porterà ambiente a patinare, anche quello che vogliamo. Sappiamo quante critiche rispetto ai miei pianti, la regione ci dà un giorno per fare questa cosa che per noi è utilissima. Io ho rimesso il patinio dopo dieci anni, devo dire, quindi è un motivo per il mio spazio del titolo, spero che cammini a tutti di venire qua a fare una patinata. Adesso mi sono scaldato e magari faccio qualche partita, mi credo, non scherzo. Venite anche a Venezia da Marà, stiamo facendo un buon campionato, i ragazzi sono giudici, ci sono troppo, andremo sempre più grande. Lascio la parola anche a Paolo Bezozzi che naturalmente è il padrone di casa. Il padrone di casa è la regione Lombardia e quindi è l'assessorato che ha voluto realizzare e comprare una gestione con queste piante. Noi siamo semplicemente, utilizziamo solo il ruolo tecnico e il coordinamento del gestore della piazza. No, andate da te, ci siamo già con di niente e poi? Beh, adesso vedrai che cosa non c'è la politica. Però certamente siamo un buon sport. No, no, Jasmine, Jasmine, fate il casino, vorrò portare il saluto. Grazie. Prego. Grazie a tutti.